Grazie Presidente, sarò molto più breve. Chiaramente alla consigliera Montella do contezza e certezza delle sue preoccupazioni che sono anche le nostre perché ricordiamoci sempre che i beni dell'amministrazione non sono soltanto le risorse economiche, bensì tutto ciò che proviene dall'impegno e dagli accordi che vengono presi anche con i privati e ricordiamoci che gli accordi vanno sempre rispettati. Allora per dare anche sostanza e soprattutto confermo a quanto detto dal Presidente Terranova che ringrazio per quanto concerne gli assistenti per la scuola, per i cosiddetti AIC, confermo che abbiamo ragionato proprio come dovrebbe ragionare un buon padre di famiglia. Abbiamo pensato che oggi ci sono famiglie che vivono in alcuni quartieri di Roma e che non hanno la possibilità di avere l'assistenza per i loro figli disabili al pari di altri municipi, senza dire che sono quelli centrali, con ore superiori rispetto agli altri. Allora a questo punto abbiamo deciso che forse era giusto che tali diritti valessero per tutti e abbiamo lavorato con il Dipartimento e con gli uffici competenti proprio per arrivare a un livello di erogazione di servizi che fosse una media nazionale. E abbiamo utilizzato i soldi che oggi vengono dai proventi ASEA di cui tanto si parla. Allora quando si fanno le variazioni di bilancio le si fanno sui soldi che arrivano, non su quelli sperati. E noi questo abbiamo fatto e per questo ci troviamo la quinta variazione di bilancio. Non perché non sappiamo programmare come giustamente è stato ricordato, ma perché fortunatamente la programmazione che abbiamo fatto noi, che io ho già detto all'inizio della discussione, era prudente, è stato dimostrato che era prudente. Perché abbiamo recuperato più soldi dal fondo di solidarietà comunale come anche dai dividendi ASEA, per fare degli esempi. E poi ci sono state delle economie. È chiaro che per quanto riguarda l'assestamento non va confuso con la variazione di bilancio, perché l'assestamento è un momento topico dell'amministrazione. Innanzitutto c'è la cosiddetta salvaguardia degli equilibri, quindi si mette in discussione tendenzialmente la tenuta dell'ente. E dall'altra parte però si fa quel lavoro che voi già giustamente anche le opposizioni hanno ricordato, il famoso monitoraggio. Cioè si comincia a ragionare e per la prima volta in questo comune si parla di questo. Io penso che i consiglieri che hanno fatto un'esperienza politica anche passata sanno bene a cosa mi riferisco. Che oggi venga messa in discussione, tra virgolette in discussione, cioè venga chiamato un capodipartimento e i loro uffici a dire, a spiegare per quale motivo gli stanziamenti che gli erano stati dati a inizio anno non sono stati spesi, cioè non sono stati impegnati. Questa è una novità incredibile. E allora questa novità sta sul fatto che queste risorse, e le vedrete nero su bianco, in assestamento, vanno proprio a fare quello che i consiglieri, il consigliere Bordoni, ma anche Corsetti e anche Politi dicevano, vanno proprio a integrare quelle aree di inefficienza o comunque di mancata efficienza non dipesa dalle persone o dalle strutture, bensì dalla carenza di risorse. Perché? Perché a suo tempo si era pensato, cioè in fase di bilancio, che determinate strutture dipartimentali, determinati uffici avrebbero avuto una grande verve e avrebbero potuto impiegare quei soldi. Invece poi, successivamente col monitoraggio, si scopre che quella aspettativa non c'era. E' come dare una Ferrari a un pilota che non è di Formula 1. Ecco, allora, magari si dà una macchina, diciamo, elettrica, dato che adesso siamo in tema con la Formula E. Allora dico, cerchiamo di fare un lavoro diverso, cerchiamo di fare in modo che le risorse che si liberano vengono assegnate a chi, in qualche modo, ha la capacità di finalizzare, quando si dice finalizza e tiri il gol in porta. Ecco, questo è quello che vorremmo cercare di fare. Quindi l'assestamento serve soltanto e unicamente a questo, per dare la possibilità a chi ha i piedi buoni e ha il fiato di correre e fare gol. Questa è la cosa sul quale noi stiamo puntando. Per quanto riguarda i mercati, altrettanto, il discorso dei mercati rionali è vero, sicuramente ci sono delle problematiche. Però ricordo che nessuno mai si è preoccupato di verificare se effettivamente quei mercati, dato che quello era l'impegno da parte di chi le gestiva, facesse la vera manutenzione. E allora noi questo stiamo dicendo. Oggi ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Dall'inizio, cioè oggi voglio gestire una struttura, mi prendo l'impegno anche di manutenerla, benissimo, lo faccio. Se invece poi per anni non lo faccio, l'amministrazione, e ne ha tutto il diritto, si riacquisisce questa facoltà. E la svolge lei. E oggi ci sono nove municipi che si stanno dando da fare in questo senso. Ora, c'è stato anche il commento della consigliera Baglio, che ovviamente ringrazio. Lei diceva, bene, ma vorrei capire come sono state distribuite queste risorse. Penso che sulla Eccine sia stato dato il messaggio chiaro, ovvero chi aveva già molte più ore le continua ad avere. Non le abbiamo ridotte, quindi non è che abbiamo compresso diritti già acquisiti, bensì ne abbiamo forniti altri. Per quanto riguarda i mercati, invece, abbiamo chiesto uno sforzo. Abbiamo chiesto, dato che i mercati sono un punto di partenza dell'economia del territorio, e soprattutto l'economia locale, perché ricordiamoci che i mercati acquisiscono anche prodotti a chilometro zero, benissimo, sono proprio quelle realtà nelle quali bisogna investire, perché ci vanno gli anziani, ci vanno le famiglie, ci va chi cerca anche qualche piccolo beneficio in termini economici. E abbiamo detto, perché non dare la possibilità ai municipi di gestire direttamente queste spese? E per loro è comunque impegnativo, vi assicuro, perché lo sappiamo tutti che il turnover è bloccato. Sappiamo tutti che le risorse umane disponibili all'amministrazione sono poche. Ebbene, comunque i municipi un impegno se lo sono presi. Hanno detto, nella progettazione la facciamo e cerchiamo di impegnare queste risorse. E nel frattempo loro, e lo sapete benissimo perché lo vedete da questa variazione, ci stanno i progetti sull'antincendio da fare nelle scuole. Ma da quanti anni aspettavamo l'antincendio nelle scuole? Da quanti anni i mercati sono stati lasciati? E oggi finalmente un'amministrazione responsabile prende dei soldi e li mette su queste cose. I territori vanno tutelati e noi su questo stiamo lavorando. Ripeto, per quanto riguarda le varie azioni che erano state dette e portate avanti, le somme urgenze, giustissimo, corsetti, consiglieri, io la ringrazio perché lei ha aperto un fronte. Ha fatto finalmente capire, col suo intervento, e sicuramente anche gli altri consiglieri lo hanno fatto in passato e lo faranno in futuro, che Roma è la capitale d'Italia e merita di avere un trattamento diverso rispetto alle altre città. Perché? Perché abbiamo di tutto. Due milioni e novecento mila persone che abitano qua e un indotto, cioè un pendolarismo che arriva a quattro e tre, quattro e cinque milioni, cioè persone che entrano alla città ogni giorno, turisti. Tutti si aspettano tanto da questa città e noi dobbiamo continuare ad andare avanti con le regole che vale anche per un comune di mille abitanti. Ripeto, non può essere questa la risposta. È a ragione lei, ma le somme urgenze sono un'anomalia. Purtroppo le somme urgenze sono un'anomalia, non possiamo più farle e lo sapete bene. E da qui le mille variazioni di bilancio e da qui tutti gli impegni che l'amministrazione si sta prendendo. Allora, ripeto, anche su questo Roma bisogna qualcosa di diverso e lo sapete bene perché la gestione commissariale che c'è e che non abbiamo creato noi, ma che hanno creato altre amministrazioni che ci hanno preceduto, quella gestione commissariale che tanto oggi viene nuovamente messa in discussione, non sta ottenendo risultati. E lo sapete bene, noi abbiamo avuto una richiesta da parte dell'Ater, l'Ater è partner, collabora insieme all'amministrazione capitolina nella gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che sono oltretutto in una situazione veramente disastrosa. Ebbene, loro hanno un debito nei confronti della gestione commissariale, cioè nei confronti di Roma Capitale. Non si riesce a trovare un accordo. E allora lì rischiamo di mettere in difficoltà un ente che eroga servizi per centinaia di migliaia di famiglie. E allora dico, forse proprio in quest'ottica, diceva il consigliere Corsetti, bisogna creare qualche opportunità in più di dialogo. Noi lo faremo, lo faremo con l'Agenda per Roma, lo faremo con gli incontri istituzionali che sono previsti e siamo certi che, soprattutto perché questa città ha bisogno di un piano di ripresa e di rinascita serio, Fabbrica Roma è un'iniziativa sulla quale stiamo investendo, si potrà certamente superare questa situazione. Quindi poteri speciali a Roma, sì, al 100%, risorse a Roma in più, sì, al 100%. Oggi l'abbiamo detto in commissione. Ecco, sull'ultimo aspetto si parlava della macchina amministrativa ingessata, sì, io l'ho detto in commissione, non lo nego, ma lo sappiamo tutti, arrivano note infinite, secondo me sarebbe bello che un qualche ricercatore prendesse il famoso protocollo del Comune di Roma, diviso in mille dipartimenti, in mille unità. Andiamo a vedere quante note vengono prodotte dagli uffici. Ci sembra quasi che il criterio della produttività sia quante note scrive un funzionario, un dirigente, un ufficio. Vi assicuro che c'è una proliferazione di note. Eppure la proliferazione di note non è la soluzione per questa città, è solo burocrazia. E noi su quello dobbiamo anche lavorare. E seriamente, una macchina amministrativa ingessata, in cui ci si scrive soltanto di chi sono le responsabilità e mai nessuno che sostanzialmente le assume veramente. Perché ogni volta c'è un rimpallo costante. E anche questo è un impegno sul quale bisogna lavorare. Ma ahimè, va fatto proprio in quella logica di concertazione, perché ricordiamoci che parliamo di pubblico impiego, nella quale tutti quanti i soggetti interessati devono entrare in discussione. E si deve creare questo percorso. Da qui le società partecipate, che possono sicuramente essere un volano per questo genere di prospettiva. Ultima cosa, mi veniva osservato sul discorso delle passività potenziali. Ecco, le passività potenziali le conosciamo tutti. Sono possibili contenziosi, somme di cui non avevamo contezza che potevano essere richieste dall'amministrazione. Queste che abbiamo messo in variazione di bilancio sono semplicemente sentenze, pignoramenti. Sono multe sulle quali sanzioni che sono state elevate all'amministrazione e quindi sono spese legali che vanno pagate. Le abbiamo inserite in questa variazione. Abbiamo creato il relativo fondo proprio per dare garanzia e certezza di quell'equilibrio che tanto l'ente deve garantire, soprattutto il sindaco e la sua giunta. E quindi su questo abbiamo operato. Quindi, ripeto, nessuna volontà di scavalcare in realtà il presidio democratico, quindi una risposta al consigliere Bordoni, il presidio democratico rappresentato dall'Assemblea Capitolina, nessuna volontà di non dare importanza al lavoro che si fa in quest'Aula. Anzi, la volontà è quella di mettere a disposizione il prima possibile risorse, perché sapete meglio di me che nel momento in cui ho una risorsa stanziata sono in grado di poterci costruire una gara sopra e magari spendere quelle risorse entro i termini dell'anno. Quindi noi abbiamo cercato di fare una corretta programmazione, dare garanzia alle famiglie, alle scuole che si devono riaprire, perché vi ricordo che le scuole chiudono nel periodo di stimo e poi riaprono. E quindi anche un mese è prezioso. E quindi su questo noi ci siamo mossi, ci siamo mossi sull'utilizzo di un avanzo e di fondi che provengono anche da terzi enti che ci hanno dato invece risposta in merito all'utilizzo di quelle risorse, oltre la programmazione del bilancio. E quindi nel momento in cui ci viene detto che quelle risorse sono spendibili, le potete utilizzare, le abbiamo subito messe a bilancio. Quindi su questo lavoriamo. Sono certo che l'assestamento di bilancio sarà una bella occasione per fare il punto di tutto e soprattutto di questo anno, di questa amministrazione. E avremo anche la possibilità di fare quella che giustamente è stata definita da molti di voi consiglieri, quella sana politica di scelte e di sviluppo della città che tanto aspettiamo. Grazie.